Isola dei famosi, Cecilia Capriotti a luci rosse, mentre facevo l'amore col mio fidanzato. Roma Cecilia Capriotti tornata in Honduras dall'Italia e sbarcata con Nadia Rinaldi sulla cosiddetta isola che non c'è ha subito rivelato alcuni aspetti intimi della sua vita privata, ho mangiato la cioccolata e fatto l'amore con il mio fidanzato. Ma sai che ho fatto per stupirlo? L'ho picchiato. Gli ho dato due schiaffi, magari si eccita, ho detto. Lui poi mi ha chiesto, Cecilia ma chi te l'ha consigliato? E Paola e Nadia scoppiano a ridere? Poi il quartetto Nardi di Benedetto Capriotti Rinaldi trova il tempo per sparlare di Bianca a Zei. Di Bianca te ne devi occupare come di una bambina dice la Rinaldi. Mentre per Filippo la cantante sarda è molto manipolatrice, è tipo un paguro, che trova una conchiglia come copertura e la usa. Poi se ne trova un'altra più bella molla la prima e prende l'altra. Per Cecilia invece Bianca passa come una vittima. Grazie a tutti.